proseguendo ecco così come in una visita fisica ovviamente all'inizio del percorso vengono gettati tanti temi e poi magari alcune cose si ripetono questo è un punto all'inizio della sala 3 molto importante in questa postazione vedete che siamo proprio sul retro della proiezione del Brunelleschi perché si intravede dall'altra parte la gru ecco questo è un punto in cui si possono esplorare attraverso un touchscreen tutti i manoscritti di Leonardo leggendo e acquisendo informazioni su come dopo la sua morte si sono dispersi ovviamente nel corso dei secoli ma in più in quelle vetrine si notano ci sono dei facsimili questa volta dell'ultima edizione nazionale quella della Giunti di alcuni dei manoscritti rilegati taccuini di diverse dimensioni perché volevamo anche in questo caso dare conto della fisicità cioè di come si presentano realmente i manoscritti di Leonardo si passa poi in questa terza sezione in cui è definitivo questo passaggio della Toscana a Milano ovviamente le gallerie poi si soffermano tanto sul soggiorno milanese di Leonardo in quella che è diciamo una delle attività che impegna di più Leonardo al servizio degli sforza lo studio dell'arte militare che è intesa soprattutto abbiamo voluto restituire molto questo principio come recupero della tradizione antica e mediovale attraverso i numerosi trattati di arte militari che vengono date alle stampe che Leonardo conosceva soprattutto il derai militare di Bertuglio è come se Leonardo ma anche i suoi contemporanei illustrassero improvvisamente tutti questi secoli di sapienza che c'era arrivata dall'antico solo attraverso la parola infatti non per niente mettiamo a confronto dei plastici degli anni 30 realizzati per l'esposizione universale di Chicago che rievocano le fortificazioni costruite da Giulio Cesare nell'assedio delle Gallie che erano arrivate nei secoli tramandate grazie alle sue parole nel commentario di Bello Gallico ma non avevamo nessun disegno ecco nel Rinascimento viene invece illustrata tutta questa sapienza e fa parte di questo grande progetto di recupero ovviamente della sapienza degli antichi su questo si innesta ovviamente la capacità di saper innovare che da una parte in Leonardo è la ricerca di soluzioni complicate fantastiche ad armi che in realtà rimangono sulla carta come quella balista doppia che vedete in primo piano dall'altra invece lo studio di tecniche più attuali come quella dell'artiglieria che andava sviluppandosi in questo caso in questa sala abbiamo creato questa grande proiezione che si muove con questi cavalli e questo fluore della battaglia che dà un risvolto diciamo un contrapunto artistico ma anche scenografico ovviamente a questo tema che occupò tantissimo Leonardo tra i disegni che si possono esplorare abbiamo scelto ovviamente temi che legano proprio il Rinascimento all'Antico come quello dei Carri Falcati che Leonardo descrive ma che erano stati descritti anche da Valturio e che arrivavano direttamente dai testi di Frontino e di Tito Livio ma che nessun ingegnere del Rinascimento si sarebbe sognato di costruire questo è molto importante perché fa parte sempre di questi luoghi comuni su Leonardo in cui questi disegni vengono visti come un tentativo di progettare qualcosa in realtà no, questo è un modo per illustrare il passato ovviamente infondendogli quella visione teatrale fantastica che Leonardo riesce come dire a portare ai massimi livelli guardate queste falci che tagliano a pezzettini letteralmente i nemici che danno una visione profonda e incredibilmente elevata dal punto di vista artistico molto diversa da quello che pochi decenni prima proprio Roberto Valturio aveva disegnato nelle celebre... cioè veramente i disegnatori sono collaboratori anonimi e pensate che il Derai Militare di Valturio è il primo libro a stampa al mondo nel 1472 illustrato, questo è uno dei record che possiede ed è anche stato volgarizzato molto presto nell'83 quindi Leonardo potè leggerlo senza problemi e anche qui nei suoi disegni ci sono veramente tantissimi riferimenti questo è importante, quando si parla di questi temi magari davanti a un gruppo sembra che si voglia distruggere un mito perché molto spesso le persone mi dicono a me allora Leonardo copiava perché noi abbiamo questo diciamo questa idea diciamo dell'invenzione, del brevetto tipicamente ottocentesca ma in realtà nel Rinascimento il recupero della tradizione e la propria azione lo studio delle idee diciamo altrui faceva parte del processo di assimilazione della conoscenza, quindi bisogna cercare di mettersi un po' nei panni ovviamente dell'invenzione. Questo è un altro disegno in cui è abbinato il celebre carro da guerra con un altro carro falcato perché Leonardo li disegna tantissimi lo affascinava perché dal punto di vista visionario queste armi veramente erano interessanti e poi si arriva alla sezione numero 4 che è una sezione dedicata alla teatralizzazione proprio delle macchine della meccanica che deriva anche dalla tradizione dell'uso di macchine anche negli spettacoli teatrali. In questa sezione che è praticamente su un estremo della galleria laddove era il vecchio ingresso, vedete quell'arco lì dietro, quello era il vecchio ingresso la galleria, sono presenti diciamo modelli di carri, sono tra i modelli tra l'altro più belli scenografici non solo di Leonardo, in questo caso sulla destra un grande carro che in età fascista quando nacque il mito di Leonardo genio italiano era inteso come la prima automobile della storia ma è stato chiarito invece era semplicemente un carro semovente in grado di muoversi per qualche metro su un palcoscenico, peraltro sempre solo concepito sulla carta che aveva mai realizzato, è messo a confronto come vedete nella vetrina con altri carri realizzati e disegnati da altri ingegneri umanisti prima di Leonardo come sulla destra il carro di Giovanni Fontana un umanista padovano che lavora per il re di Francia e sulla sinistra da Ansburg Mayer che progetta o meglio disegna questi carri fantastici con ingranaggi per illustrare il corteo di celebrazione dell'imperatore Massimiliano ad Asburgo, peraltro qui ho voluto sottolineare due temi, questa continuità cioè che c'è un prima e un dopo rispetto a Leonardo quindi ci sono sempre riferimenti precedenti e epigoni successivi e poi che questo fenomeno che lega l'umanesimo all'ingegneria non è italiano ma è un fenomeno europeo, questo è importante quindi abbiamo voluto aprire alcuni scenari che fanno ben capire che questo è un fenomeno europeo, uno è proprio questo dedicato al fregio per l'imperatore e l'altro tra poco lo vedremo. Nella sala come vedete ci sono questa proiezione di ingranaggi che si muovono e fanno rumore, volevano dare un po' questo approccio scenografico ma sono anche in realtà ingranaggi tutti ispirati a quelli che Leonardo disegna in un celebre trattato di meccanica che riesce diciamo a partorire in bella copia e si trova in un manoscritto ritrovato solo 50 anni fa nella biblioteca nazionale di Madrid che è il codice appunto Madrid 1. Quindi diciamo sempre i prodotti multimediali hanno comunque una ragione d'essere curatoriali. Ecco queste sono due delle stampe di Burgmayer per il corteo dell'imperatore, spesso queste macchine sono fantastiche, non potrebbero funzionare nella realtà ma non ci interessa, ci interessa capire quanto la macchina fa parte del processo di celebrazione del committente tanto quanto diciamo altri temi, non so, quelli legati alla romanità, alla classicità. Questo è importante anche in quella direzione interdisciplinare che vuole essere un po' la chiave di lettura delle galle. Si entra poi nella sezione 5, una sezione interessante che ci parla invece di un tema diametralmente opposto, quindi ci sono spesso questi scarti e questi passaggi. Si è parlato dell'immaginifico delle armi, ispirato alla classicità del teatro, qua invece si passa alla dimensione più prosaica del lavoro e della produzione che però ci dà anche la misura di quanto gli interessi di Leonardo spaziassero in temi diversissimi fra loro. La sezione si introduce, vedete il colore che la caratterizza è rosso, con questi calchi, sono calchi realizzati per l'esposizione universale di Chicago del 1933, nei mestieri medievali fanno tutti parte di un capitello molto famoso realizzato nel 300, il cosiddetto capitello delle arti meccaniche che si trova al Palazzo Ducale di Venezia, perché abbiamo voluto iniziare con queste opere, per far capire proprio come tra Medioevo e Rinascimento, quindi Leonardo in realtà è già in una fase avanzata di questo processo che inizia più di 100 anni prima, si assiste ad una graduale meccanizzazione dei processi, quindi dal lavoro inteso come gesto manuale dove solo l'utensile, il martello per il fabbro è un prolungamento dell'arto, ad una meccanizzazione graduale dei processi con l'introduzione di una serie ovviamente di macchine che aiutano la produzione e fanno sì che ovviamente queste innovazioni tecniche cambino la società, questo è molto importante. Questa è una visione, vedete le sale laterali come sono più piccole e quindi si è lavorato in modo diverso, qui ad esempio l'allestimento è più minimalista, si lavora spesso con i colori, il codice di questa sala è rosso. Sinistra vedete due seghe idrauliche quindi che funzionano con la forza dell'acqua, quella più in fondo è disegnata da Leonardo, ma sempre un disegno che registra una macchina già esistente, ma quella di sinistra, parzialmente tagliata, è disegnata 200 anni prima da Villardo Nempour, un architetto francese attivo nel cantiere di Notre Dame, che ci lascia nella metà del 200 il primo quaderno di disegni di macchine. Ovviamente il disegno di riferimento è un disegno senza prospettiva, molto semplice, ma ci fa capire che questa tecnologia era già presente due secoli prima che Leonardo poi la descriva con un altro disegno. Questo è molto importante. Un ultimo tema, qui si parla di molti argomenti, tanti sono legati a Milano come la tessitura, tra i tanti parliamo della stampa, perché l'abbiamo scelta come un esempio rampante di come un'innovazione tecnica del Rinascimento, in questo caso introdotta da Gutenberg, una realtà innovata da una serie di personaggi su una scala europea, quindi la stampa funziona anche molto bene per far capire, al di là appunto anche di scorretti sovranismi, come questi percorsi culturali sono sovranazionali, non si parla di eccellenza italiana, o meglio di tante eccellenze che sono localizzate in tanti punti diversi, quindi per la stampa ad esempio si passa da Gutenberg a Aldo Manuzio che è stato l'umanista che per eccellenza ha innovato i processi della stampa collegandoli ad un cambio dei processi culturali, con l'invenzione del libro tascabile, era possibile leggere portandosi in tasca un libro, cosa che non si poteva fare prima. Quindi per dirvi che abbiamo superato questo approccio ingegneristico che nelle gallerie precedenti c'era, che a volte è un po' sterile, per cui spesso non ci interessa spiegare, anche se nelle didascalie si spiega anche questo, come funzionava quella macchina, che a volte è poco influente, ma è tutto il contesto storico che ovviamente è sotteso. Doc, usciti dalla sezione 5, si arriva nuovamente al centro dell'esposizione, ossia all'ingresso, proseguendo nell'altra metà della galleria. Sezione 6 presenta un tema che ovviamente non può mancare quando si parla di Leonardo, personalmente per me magari più trito, meno stimolante nel processo curatoriale, perché ne ho parlato fino alla nausea, il volo e quindi anche qui questo processo di passaggio dall'osservazione della natura alla meccanizzazione di un'idea, l'abbiamo cercato però di introdurre anche grazie a degli accorgimenti curatoriali, non solo abbiamo riesposto i modelli alcuni dei quali, come quella grande navicella volante appesa, non erano esposte al museo da decenni, abbiamo cercato di farla interagire con strumenti diversi, ad esempio la scenografia, li vedete, queste grandi tele stampate, sono diciamo ognuna di circa 15 metri quadri di superficie, riproducono gli affreschi di Giovanni Stradano dalla sala di Clemente VII di Palazzo Vecchio, sono relativi agli assedi di Firenze appunto di metà cinque, cioè connessi alla vita di Clemente VII che appunto era un medici, che ci volevano dare questa idea dell'osservare la città dall'alto collegandola quindi a questo volo mentale di Leonardo e non fisico attraverso appunto questi modelli. In più tre di queste tele sono appunto della sala di Clemente VII, la quarta sempre da Palazzo Vecchio, la celebre veduta della catena, vi assicuro che vedere se la stampata è lunga 8 metri è bellissimo anche andare a individuare appunto su questo affresco, che è un affresco ottocentesco ma basato su una stampa di fine Quattrocento è veramente notevole per cui devo dire che alcuni accorgimenti sulla carta erano una scommessa, hanno funzionato molto bene. Sullo sfondo della sala è un audiovisivo molto bello che vi invito a vedere perché molti di questi audiovisivi li abbiamo pubblicati sul sito del museo in questo progetto Storia Porte Chiuse che in queste settimane a museo chiuso ci permette di dialogare con i nostri visitatori. Ecco, lo potete vedere un video che abbina il volo di uccelli veri a disegni animati di Leonardo, in questo caso in bilico tra un contenuto che voleva essere, come dire, stemperare gli aspetti più meccanici e ingegneristici dei modelli e come dire aprirsi su una dimensione anche onirica perché in questo caso Leonardo pensando al volo abbina uno studio meccanico e fisico molto preciso ma anche a un grande sogno, un grande desiderio che è insito nell'uomo fin dal mito di Dedalo e Dieter. Si entra di qui nella sala numero 7 che è una sala ugualmente molto bella dedicata all'architettura e all'urbanistica in due, diciamo, in due prospettive, una diciamo utopistica e l'altra invece reale, quindi un'architettura osservata, quindi una città osservata in particolare la città di Milano e una città invece sognata. Qui in questo scorso potete vedere sullo sfondo il grande modello della città ideale che riunisce una serie di disegni realizzati da Leonardo probabilmente per una rifondazione della città di Rigevano che avevano una serie di accorgimenti dalle strade a doppio livello ai porticati per poter aumentare e favorire la circolazione dell'aria perché questi disegni seguono, poi è molto attuale questo tema, la grande pestilenza del 1485 dove Leonardo si accorse proprio che le strade strette di Milano, l'aria malsana aumentavano il contagio e quindi cosa che a Milano non esisteva introdusse questa possibilità di palazzi porticati sulla pubblica via che rimase sulla carta perché sapete Milano non ha avuto portici praticamente fino all'unità d'Italia. Dall'altra parte però parliamo anche di una città osservata approfondendo un tema, quello del cantiere del Duomo di Milano in cui Leonardo fu coinvolto uno degli architetti chiamati a dare una sua proposta per costruire la cupola del Tiburio che nessuno era riuscito prima di quel momento a realizzare. Lo facciamo attraverso però la proposizione di elementi architettonici che di per sé sono successivi ma servono come ingaggio anche per catalizzare l'attenzione. Tre elementi delle falconature rimossi dalla cattedrale nel secondo dopoguerra e donati dall'allora direttore al nostro fondatore abbiamo restaurato per l'occasione. Sono fra i pochi elementi del Duomo diciamo fuori dal Duomo. All'epoca negli anni 50 vennero donati soprattutto a cittadini emeriti oltre che da noi si possono vedere ad esempio nella casa degli atellani cosa che appartiene solo a quegli anni perché poi la fabbrica decise di non far uscire più pezzi del Duomo dalla fabbrica quindi quelli ritirati oggi sono nel grande cantiere deposito alla stazione di Certosa. Proseguiamo ecco questo è un dettaglio della città ideale sullo sfondo un grande audiovisivo che parte da fila rete con la sua sforzinda e arriva fino alle Corbusier. Anzi le Corbusier non ci sarà più perché purtroppo la CIA non ci ha dato il permesso di utilizzarle per più di tre mesi per cui finiranno in realtà con Piero Portaluppi le immagini quindi questa è un'immagine che purtroppo non è più attuale. Qui vedete abbiamo però abbinato alcuni degli affreschi del nostro deposito di Brera, quella grande crocifissione della Santa Maria incoronata di un artista che ultimamente Stefania Buganza ha identificato con Pietro D'Avelate peraltro attivo nel cantino del Duomo perché? Perché sullo sfondo di quella crocifissione è una Gerusalemme fantastica ispirata però alle architetture di Milano dalla Torre di Chiaravalle al Tiburio del Duomo ai Torrioni del Castello per cui ci sembrava ottimo metterla di fronte a questa parte dedicata al Duomo peraltro davanti a quel modello del Duomo è un multimedia dove è stata ricostruita la città di Milano così come poteva apparire alla fine del Quattrocento con una serie di edifici collegati all'età del disforza o a Leonardo stesso di cui si possono leggere alcuni approfonditi. Nell'altra parte della sala si parla invece oltre che di architettura militare del rapporto di Leonardo con l'antico anche qui passando attraverso la riscoperta di uno degli antichi per eccellenza cioè Vitruvio e il suo trattato che partendo da Francesco di Giorgio Martini e arrivando fino a Carlo Urbino col suo celebre coedice Eugens è rievocato in quel video per far capire che l'uomo Vitruviano di Leonardo anche qui si inserisce in un interesse in uno studio che è comune a tanti altri umanisti. Da principio Vitruvio viene un po' cannibalizzato ossia Filarete, Francesco di Giorgio e Leonardo ne prendono quello che gli interessa rispetto ai propri studi. Verrà invece pubblicato in maniera completa solo all'inizio del Cinquecento prima in latino con l'edizione di Fra Giocondo nel 1511 e poi in italiano lì vedete proprio l'uomo Vitruviano di Cesare Cesariano nel 1521. Questa idea delle proporzioni del corpo che devono, sono in quei rapporti corretti così come devono essere i rapporti corretti negli edifici è qui rievocato dagli studi di Chiesa Pianta Centrale che sono solo studi teorici in cui Leonardo cerca di sviluppare quasi come un esercizio di geometria frattale la possibilità di moltiplicazione dei volumi. Quindi è interessante che questi studi architettonici sono solo finalizzati a una possibilità di sviluppo proporzionale, non corrispondono a invece commissioni o idee per edifici reali. Queste sono tutti, come dire, finezze interpretative e che è molto importante spiegare nella maniera corretta proprio per cercare di annullare quei luoghi comuni sull'artista. E qua si vede l'uomo Vitruviano di Francesco Di Giorgio e qui si vedono invece i disegni stupendi dell'uomo Vitruviano che Carlo Urbino realizza in questo manoscritto stupendo che si trova a New York, il codice Huygens, che secondo molto studiosi è basato su disegni perduti di Leonardo stesso. Sono stati esposti questi disegni l'anno scorso a Venezia, nella celebre mostra appunto sul fondo veneziano. E sullo sfondo della galleria esponiamo questo stupendo modello in gesso del Pantheon, tra parte faceva parte delle nostre collezioni e quindi volevamo valorizzare. Non c'è un legame diretto tra Leonardo e il Pantheon, ma il Pantheon ovviamente è come dire l'episodio che dall'antichità arriva al Rinascimento che meglio concretizza questa idea di armonia proporzionale che lo stesso Vitruvio, come dire, enuncia nel suo trattato e in effetti lo mettiamo a confronto nella vetrina precedente con due testi che poi ruoteranno, il testo di Piranesi proprio in cui il Pantheon è messo nel frontespizio dell'incisione e sulla destra il trattato di Andrea Palladio dell'architettura per far capire come poi il Pantheon rimarrà un riferimento costante nella trattatistica rinascimentale. La sala successiva, ormai stiamo sul finire dell'esposizione, è importantissima perché ci parla di un genius logic tipicamente milanese, ossia lo studio che Leonardo fa dei paesaggi ma soprattutto delle vie d'acqua, dove abbiamo avuto la possibilità dopo un lungo restauro di riesporre i portelli originali della chiusa di San Marco smantellati nel 1929, proprietà del Pune di Milano, esposti negli anni 50 in quella che era la siloteca Cormio, la raccolta di legni antichi ma non visibili al pubblico praticamente da quasi 40 anni. Sono stati restaurati e riallestiti purtroppo un po' schiacciati perché la distanza tra un portello e l'altro non sarebbe esattamente questa ma non potevamo fare altro, risposti come per rievocare la chiusa reale che Leonardo non progetta ma disegna, cioè rileva per la prima volta passandoci attraverso con quest'acqua proiettata. Nella sala si parla di tanti temi a partire ad esempio dalla capacità di Leonardo di osservare e rappresentare il territorio in un nucleo di mappe stupende che sono proiettate come vedete là in fondo e si trovano sempre alla Royal Library di Windsor, qui vedete una famosissima la mappa di Imola che Leonardo disegna nel suo soggiorno romagnolo del 1502-1503. Questa è la mappa invece della costa toscana che abbina alcune rappresentazioni tradizionali come quella Monticelli che esisteva già, quindi invece un'attenzione al bacino idrografico che invece proprio è suo, molto particolare. La sezione numero 9 è una sezione molto interessante che ci parla di come Leonardo abbia ovviamente influito sugli artisti lombardi come artista, come pittore di tutto il 500, con due nuclei che sono diciamo affrontati l'uno sull'altro. Da una parte come potete vedere abbiamo messo a confronto questa grande affresco strappato dell'ultima cena di Giovammaro della Rovere, il fiamminghino che proviene da un laboratorio che si trovava vicino a Porta Ticinese, che era già esposto al museo ma che abbiamo spostato, restaurato, che oggi si può ammirare finalmente nella sua prospettiva migliore. Certo, il fiamminghino non è Leonardo ma è una fresco molto interessante che ci mostra come ancora nel 1626, quindi 130 anni dopo il cenacolo di Leonardo, in età barocca, quindi con un approccio completamente diverso, ancora Leonardo fosse preso come ispiratore per un pittore di tutt'altra temperie ed è esposto accanto, vedete sulla sinistra, un dipinto di fine ottocento di un pittore appunto lombardo, che ci mostra invece come appariva la testa di Cristo del cenacolo in quella data con tutti gli ammaloramenti e problemi conservativi, quindi è un importante documento storico. Dall'altra parte sono invece esposti una serie di affreschi che fanno parte del deposito storico della Pinacoteca di Brera, presenti al museo fin dal 1952, che appartengono diversi artisti, soprattutto a Bernardino Luini, in questo caso indivisi in tre nicchie, qui sono presentati tre affreschi, due di Luini, quelli sulla destra e uno sulla sinistra, di un pittore da poco identificato, il maestro di Ercole Gerolamo Visconti, e tutti e tre tratti da soggetti di Leonardo, quindi per far capire come all'inizio del Cinquecento le opere di Leonardo ispirassero altrettanti artisti. Di Luini il Salvatore Mundi, ovviamente da Santa Marta, ispirato al dipinto di Leonardo così chiacchierato, la Madonna col bambino e San Giovanni Battista, ispirato alla Sant'Anna, e infine che si trovava in uno spizio dei certosini, infatti vedete dei certosini sul paesaggio, sulla sinistra, sullo sfondo, e sulla sinistra invece un affresco che si trovava all'esterno, quindi molto ammarolato, ispirato vagamente alla Vergine delle Rocce e alla Sant'Anna anch'esso. Ma poi ci sono altri affreschi, come ad esempio questi tutti di Luini, che ci danno la possibilità di esplorare il bellissimo fondo di Brera, peraltro, con una piccola curiosità, abbiamo riunito i due affreschi che vedete in alto, la Sant'Orsola sulla destra, che è il museo dal 1953, con il San Martino invece che è sempre rimasto nei depositi di Brera. Erano stati riuniti solo due volte, una volta nel 1953 appunto per la mostra di Luini a Como e un'altra volta sono andati in Germania e sono ritornati insieme dopo 40 anni, esposti, vedete il colonnato prospettico di stampo bramantiniano, questo è un Luini molto giovane, ancora vicino al geometrismo di Bramantino, è molto interessante, provengono dalla chiesa di Santa Maria delle Vettere insieme all'affresco di Elia e l'Angelo, quindi tutti questi affreschi provengono dalla chiesa, tranne con le due testine sulla sinistra che sono riesposte dopo lungo tempo, l'abbiamo vista alla mostra su Luini di qualche anno fa, che finalmente possono essere riambiati. Infine l'esposizione si conclude in una sala che è l'unica sala senza opere, una sala ellittica dove in una proiezione e movimento lavoriamo proprio su questa visione sistemica che Leonardo più maturo arriva a individuare, che il microcosmo, e il macrocosmo sono uniti da leggi simili, il movimento, il fluire, il turbine, sono qui illustrati in una serie di accostamenti di disegni quasi tutti della Royal Collection che vogliono proprio focalizzare questa eredità spirituale di Leonardo che alla fine non fu in realtà una eredità perché rimase sui suoi disegni che poche persone poteranno consultare dopo la sua morte. Con questa immagine si conclude la visita e io spero che con questa galleria abbiate potuto avere un'idea di come il nostro progetto si è consolidato e si è delineato. Benissimo, grazie mille dottor Giorgione per questa esauriente chiara narrazione e anche per l'ottimo lavoro che è stato eseguito alle gallerie di Leonardo che mi sembra siano totalmente rinnovate e ampliano veramente lo spettro di conoscenza del genio di Leonardo e spero potremmo vederle dal vero con i nostri soci e tutti gli appassionati d'arte. Ci conto veramente. Grazie ancora anche a nome dei soci Anisa, io quindi do appuntamento a tutti i soci Anisa ai prossimi incontri e vi aspetto sui nostri canali social quindi www.anisamilano.it e facebook, instagram e ci vediamo presto con le prossime iniziative e incontri. Grazie a tutti.